Claudio Santamaria al Festival di Sanremo, ne parliamo su Fan Week con me, io sono Elena. Ebbene, arriva la conferma ufficiale. Claudio Santamaria sarà il quarto conduttore di questo Festival di Sanremo, ma lo sarà solo per una serata. Il suo nome già serpeggiava, Claudio Bisio ce l'aveva un po' forse spoilerato quando l'abbiamo incontrato a Italia's Got Talent, perché appunto aveva detto, ah, secondo me Claudio Santamaria direbbe di sì e sarebbe perfetto. E quindi è un ritorno per l'attore sul palco del Teatro Harrison, perché lui c'è già stato in compagnia di Claudia Pandolfi e in quell'occasione omaggiarono Francesco Nuti cantando Sarà per te. Chissà che quest'anno non arrivi un omaggio a Rino Gaetano, visto che Claudio Santamaria è il volto di Rino nella fiction Il cielo è sempre più blu. Per scoprirlo basta rimanere sintonizzati perché mancano ormai pochissimi giorni all'inizio di questa nuova edizione del Festival di Sanremo.